Rettore Rizzuto, sembra che pediatria sia a rischio di trasferimento. Che cosa sta accadendo? So che comunque tutta la sicurezza è monitorata. Allora, abbiamo ricevuto ieri informazione di rischi statici nel palazzo di pediatria e immediatamente ci siamo messi al lavoro per la verifica immediata dei dati e dei rischi effettivi. Quindi, qualora questi rischi si confermassero, d'intesa con l'azienda, predisporremo piani per garantire l'operatività della pediatria in altra sede. L'obiettivo è ovviamente quello che l'attività medica e l'attività di ricerca e didattica che si svolgono dentro lo stabile di pediatria siano sempre in sicurezza. Stiamo parlando di una struttura degli anni 70, quindi la problematica è effettivamente legata solo alla struttura? Ma sì, certamente le caratteristiche costruttive dei palazzi degli anni 70 non sono quelle di oggi, quindi bisogna verificare non solo la congruenza con le caratteristiche costruttive di oggi, ma l'effettiva solidità e gli effettivi rischi che ci sono, se ci sono. Mi permetta di dire che è una delle palazzine più trafficate, una delle più importanti per quanto riguarda l'azienda ospedaliera. Come riuscire nell'intento di un possibile trasferimento in pochi giorni? È un fiore all'occhiello, è un vero Children's Hospital che chiunque ha bambini nel territorio cittadino conosce e apprezza. Certamente non è facile immaginare una collocazione senza perdere neanche un minuto di operatività, però se si rende necessario le emergenze si affrontano e si superano. Indicativamente il trasferimento se dove? Questo va discusso e concordato con l'azienda ospedaliera, quindi sarà l'azienda ospedaliera e la USE territoriale a discutere d'intesa con noi la migliore collocazione di un'attività sanitaria, ma ovviamente la conoscenza primaria della dislocazione delle diverse sedi sanitarie è degli operatori della sanità. Grazie.